Invece no, vi canterò Tu che vigenzi Cinta, che è un'area finale in realtà, noi apriamo invece con quest'area, è l'area finale della Turandotto di Buccini, quella in cui Liu, il personaggio in apparenza più dolce e più fragile dell'opera, in realtà prende il coraggio da quattro mani e sfida per amore la tremenda principessa Turandotto e subito dopo si toglie la vita, però questa è una sua sfida dedicata alla forza dell'amore, quindi lei guarda negli occhi Turandotto e le dice Turandotto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.